bene ritrovati è finito il match super sfida di questo weekend inter juve 0 a 1 decide un gol nel primo tempo di kostic ma tra mille polemiche intanto vi ricordo di scrivervi qui sul logo l di lasciare un like commentando qui sotto con il vostro punto di vista partita che la juve porta a casa con un gol discusso perché nasce il tutto da un tocco di braccio vistoso di quello abbiamo parlato anche in precedenza di rabiot l'arbitro non viene richiamato dal var non va a vedere l'episodio al var non trovano forse l'immagine più chiara e si vede però dalle immagini chiaramente che rabiot la prende di braccio e quindi andava fermato comunque andava annullato il gol nel secondo tempo la juve parte meglio l'intre prova a creare qualche pericolo nel finale entra chiesa che però viene sostituito per infortunio speriamo per lui che non abbia nulla di grave e alla fine partita anche nervosa con la juventus che porta a casa tre punti e si avvicina alle altre nonostante la penalizzazione perché la juve oggi ha 41 punti è a meno 4 dall'atalanta e a meno 6 dal roma e meno 7 dal milan che è quarta ultima e si porta a meno 9 dall'inter battuta oggi però sarà un po' spartita incandescente sarà una settimana o meglio due settimane incandescenti proprio perché c'è juve inter c'è un episodio arbitrale pro juve quindi sicuramente ne sentiremo ne vedremo delle belle per quanto mi riguarda era chiaro ed evidente il braccio altra sconfitta per l'inter altra vittoria per la juve che se si vede ritrovare i 15 punti in classifica migliora e balza al secondo posto per questo lo si vedrà un po' più avanti che cosa ne pensate che partita avete visto che cosa ne pensate dell'episodio arbitrale scatenatevi qui sotto leggerò i vostri commenti invito tutti a iscrivervi qui sul logo al lasciare un like e ripeto a commentare 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 sempre però con educazione rispetto e civiltà juve 1 in trasferta inter 0 appunto un abbraccio tutti e buonanotte ci vediamo presto domani ciao